Ciao, sono Emanuele, ti do il benvenuto sul mio canale dedicato soprattutto alla ricerca dei funghi. Appena un po' di tempo libero la natura ce lo permette a mandare alla ricerca dei funghi e dividere i miei ritrovamenti con voi. Sul canale troverete anche altri video, in esclusiva i video a 360 in VR che con gli occhiari per la realtà virtuale vi porteranno alla ricerca dei funghi insieme a me. Quindi, se non vuoi perdere le mie uscite, ti invito a iscriverti al canale e visitare il mio sito internet mcsurvival.com Ovviamente ti invito anche a scrivere nei commenti per parlare del bellissimo mondo della micologia. Per ora ti saluto e spero di averti nella mia community. Ciao!